Parliamo di sicurezza e soprattutto di sicurezza in mare, sulle nostre coste, per chi viaggia è arrivato il periodo estivo e chi non vuole gustarsi appunto questo periodo, che sia una settimana sia tutta la stagione estiva. Però ci sono alcune regole basilari per stare bene e rispettare soprattutto chi ci sta più vicino. Perciò se andiamo per mare, reperibilità, essere intracciati, stare in buona salute sono delle regole semplici ma basilari per potersi divertire. E soprattutto se siamo in difficoltà, contattare la Guardia Costiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.